Resume recording, partita Ok, bene, allora Possiamo iniziare questa mattina Allora parliamo nella prima parte della mattina di forums Che sono ovviamente un elemento estremamente importante nell'applicazione Perché ci consentono di interagire con l'utente Ricevere input strutturato da parte dell'utente Per esempio campi di testo Quindi l'utente che scrive qualcosa nell'applicazione Piuttosto che seleziona elementi, click eccetera Il click diciamo in parte l'abbiamo già visto Ma con gli elementi del forum Riusciamo ad avere un input più complesso Del semplice click o dell'interazione puntuale E poi nella seconda parte parliamo brevemente di context Che è un sistema che ci aiuta a passare le props ai nostri componenti react In maniera un po' più comoda Soprattutto quando abbiamo tanti componenti E dobbiamo passarli tra due componenti distanti nell'albero delle properties Oppure abbiamo tante properties Ok, però concentriamoci per prima sui form Perché l'aspetto sicuramente più importante È che sicuramente sarà presente all'esame Quindi ci sarà sicuramente da fare qualcosa con i form Perché altrimenti diciamo l'applicazione diventa estremamente banale Dunque, allora sappiamo che i forms sono presenti in HTML Già da praticamente prime versioni I forms HTML diciamo così nativi E sappiamo anche che hanno una serie di limitazioni Nel senso che sono inconsistenti Per esempio, se voi prendete dei controlli Un po' particolari Come per esempio la texteria Quello che ci consente di scrivere il testo su più righe Quindi una grossa casella dove possiamo scrivere Non si può andare a prendere il valore con il punto value Cioè non ha un attributo value Oppure l'on-chain sul radio button non funziona E così via Quindi tutti i comportamenti che avrebbero potuto essere migliori Più consistenti tra i vari tipi di controlli del form Anche non sono così E questa è una conseguenza diciamo della storia Del fatto che fondamentalmente i form sono stati pensati 30 anni fa Se non di più E quindi sono evoluti con l'evoluzione dell'HTML E non si pensava che si arrivasse ad usarli In cose complicate come le applicazioni web Nel momento in cui si va a usare un framework E questo framework si è fatto bene come React Cerca di estrarci un po' da tutti questi problemi Sia di compatibilità tra i browser Ma anche interni agli stessi browser Derivanti dall'eredità del passato Quindi appunto da questi comportamenti dei form Tipici dell'HTML standard Quindi React ci espone un'interfaccia molto più uniforme Ci virtualizza gli eventi Quindi ci dà degli eventi sintetici Che quindi diciamo in qualche maniera Poi si mappano con qualche sua logica Sugli eventi inattivi Che possono essere non sempre gli stessi Però noi li vediamo come fossero sempre gli stessi Quindi questo ci facilita molto nella programmazione Quindi in JSX Che è diciamo la versione HTML virtuale Che ci fornisce React Che è quella che scriviamo nelle nostre applicazioni Abbiamo una serie di caratteristiche consistenti Tra tutti i controlli del form Che sono quelle che andiamo a descrivere adesso Prima di tutto c'è sempre un attributo value Che contiene il valore corrente del campo Quindi anche se la texteria Anche se sono i radio button Eccetera Anche se sono controlli complicati C'è sempre lì dentro il valore del current value Ovviamente dipende poi dal tipo di controllo Quale sarà il valore Però possiamo sempre riferirci al valore in quella maniera Il default value È quello che ci dice come compare il controllo all'inizio E questo si applica a tutti i vari controlli Quindi ci astraiamo da quei meccanismi dell'HTML Che dobbiamo invece conoscere nel momento in cui scrivessimo HTML puro Cosa che non facciamo più usando React Ok Ecco Eventi sui form A noi interessa in particolare l'evento on change Vedremo Perché Forse c'è qualcuno che deve mettere il microfono Un muto Un po' difficile da trovare Vediamo se Trovando io Ok Cosa è stato messo Ok Quindi Dicevamo dell'evento on change Perché Perché nel momento in cui cambia qualcosa in un form Vedremo che abbiamo Una modalità particolare di gestire i forms in React Che deve riportare ciò che è cambiato all'interno del form Quindi sulla pagina del browser Nel controllo del form vero Nel DOM Dentro uno stato di React E per farciò usiamo questo evento on change Cioè non appena qualcosa cambia nel form Noi reagiamo e ci aggiorniamo il nostro stato Questa sarà la modalità Diciamo più comune Con la quale andremo ad utilizzare i controlli HTML In React Non è l'unica Ma vedremo che è la più adeguata alla logica di funzionamento di React Quindi sicuramente andiamo a provare A usarla in questa maniera E tra l'altro ci porta anche una serie di vantaggi Perché reagendo ogni volta che cambia qualcosa nei form Siamo anche in grado di determinare il comportamento In maniera abbastanza fine Quindi passando una funzione all'on change Diciamo agganciamo gli eventi di cambio del form E quindi ogni volta che cambia il value Veniamo richiamati Con la funzione che abbiamo passato all'on change E funziona per qualsiasi tipo di cambiamento Quindi anche quando scriviamo un singolo carattere All'interno di un campo di testo Texteria, Input, eccetera Quando cambiamo ovviamente Una selezione, un checkbox, eccetera Ma questo forse è un po' più naturale Quindi ogni carattere Tac, on change Poi per fortuna il javascript è abbastanza rapido Come esecuzione oramai su computer moderni Quindi noi possiamo gestire un evento A ogni input dell'utente Che per il computer alla fine è anche abbastanza Lento, in un certo senso Anche se scriviamo veloce Ok Vi ricordo che negli event handler L'abbiamo già intravisto Ma la callback che passiamo Quindi alla on change, alla on click Qualsiasi cosa È chiamata con un parametro Che noi possiamo decidere di ignorare Ma anche no Se ci serve L'oggetto evento Quindi c'è un oggetto Che ci dà dei dettagli Su quale evento è stato scatenato Tutti gli eventi Tutti gli oggetti evento Hanno una serie di proprietà standard In particolare vi ricordate Che abbiamo già visto target Che è in realtà L'assorgente Non il target Ma l'assorgente dell'evento Hanno deciso di chiamarlo così Cioè è stato Che so Fatto click su un campo di input Ok Event target sarà Il riferimento a quel campo di input No? È stato fatto un cambiamento In quel campo di input In event target troviamo quel campo di input E poi Poi a seconda del tipo di evento Ovviamente avremo proprietà più specifiche Che so Se l'evento era onMouse Non ricordo più come si chiama OnMouse MoveForce Qualcosa di questo tipo Ci saranno le coordinate Di dove è andato a finire il mouse Perché è specifico di quell'evento Ma ci sarà il target Dicendo che Sarà l'elemento Che ha scatenato L'evento Ok Noi abbiamo questi Eventi sintetici in React Che quindi sono Diciamo così Degli eventi di più alto livello Che corrispondono Praticamente Uno a uno Agli eventi del DOM Con quei piccoli aggiustamenti Che abbiamo detto prima Relativamente ai form Che hanno dei comportamenti Un po' diversi dagli altri Quindi c'è una uniformizzazione Se così possiamo dire Di questi eventi Quindi Cosa abbiamo Negli eventi sintetici Gli stessi attributi Di quelli Dell'evento DOM Quindi quello Che gestiremmo Direttamente In JavaScript Dentro browser Anche lì c'è il target E tra l'altro Tramite il target Ecco Questo è proprio uno Dei modi classici Con il quale Possiamo andare Ad agganciare I due valori Più importanti Che ci interessano Nel momento In cui abbiamo A che fare Con i form Uno è il value Perché vogliamo Sapere cosa L'utente ha scritto Cosa l'utente ha fatto Cosa ha selezionato E così via E l'altro è il nome È il nome Del elemento All'interno del form Che è Di solito Un qualche cosa Che ci interessa Perché identifica Diciamo La categoria di input Che sta Fornendo l'utente Che sono Nome Cognome Indirizzo Numero di telefono Numero della carta di credit Numero di Non so Selezione di quale corso Selezione di Di una scelta Tra più Possibilità Che sono Mattino Pomeriggio Sera In modalità esclusiva E così via Dipende dal controllo Però come facciamo a sapere Quale Quale controllo ha toccato Sapete che Nei form È obbligatorio Dare un nome E quindi È un attributo Name Proprio E quindi noi possiamo Tramite target Punto name Andare direttamente A sapere Qual è Il Controllo Sul quale È stato scatenato L'evento Sintetico O O no Ma noi ci Ci focalizziamo Sugli eventi sintetici Sono quelli che Possiamo vedere Da react Quindi qui trovate Tutti Gli attributi In cui Ecco C'è il target Ovviamente Quelli in grassetto Sono quelli che ci interessano Di più E poi vedremo Che c'è il prevent default Che abbiamo già Intrevisto E stop propagation Che ci servono A Diciamo Nell'handler A gestire al meglio L'evento In particolare Quando è Che so Un click O un on submit Per evitare Che venga ricaricata Una nuova pagina Perché ci cancellerebbe Tutta la nostra applicazione E stop propagation Per dire che L'abbiamo gestito Nel caso di Passarla ad altri elementi Nel albero del DOM Ok Qui trovate Una lista più esaustiva In cui Vedete in grassetto Diciamo Gli eventi Più interessanti Ma abbiamo già detto Prima che Sostanzialmente C'è l'on change O un click Ecco Focus e blur Che ci possono essere Che possono essere Interessanti Perché Perché questi Non Vengono lanciati Ogni volta Che Si Fa Un cambiamento Anche minimo All'interno Di un controllo Del form Come l'on change Ma solo quando Si lascia il controllo Per andare su qualcos'altro Oppure si clicca su un controllo Quindi solo quando si entra O si esce dal controllo Quindi L'utente ha finito Di scrivere in un campo E va in un altro campo E potrebbe essere interessante Agganciarlo Per esempio Per fare Una qualche validazione Una qualche Controllo Per il quale Magari vogliamo far venire fuori Un messaggio E così via Poi c'è l'on submit Che è importante Perché nei form I form sono fatti Per Prendere un input Dell'utente E mandarlo al server Questa nella versione HTML Tradizionale Noi Non lasciamo Che sia il browser Che mandi questo input Al server Ma Li gestiamo noi Per cui noi Dobbiamo sempre Nei nostri form Agganciare l'on submit E fare Quello che dicevamo prima Prevent Default Cioè evitare Di andare a Caricare Una nuova pagina Da parte del browser Ok E poi c'è l'on click Che a seconda Dove lo mettiamo Può anche Non aver necessità Di fare Prevent Default Perché magari Se non è un tag anchor Il browser In generale Non fa Nulla di particolare Quindi se è un normale Bottone Non di tipo submit Il browser Non fa niente Ok Ok Come facciamo A definire Gli event handlers In realtà Queste cose Le abbiamo già Un po' Intraviste No Però le ripassiamo Proprio perché Adesso ci mettiamo A lavorare seriamente Sui form Quindi Beh Prima di tutto Dobbiamo definire Una funzione E poi la passeremo A quell'attributo Che ci mappa L'evento Che ci interessa On click On change E così via Quindi abbiamo Diversi modi Per definire una funzione I soliti modi JavaScript La row function E la maniera più tipica Anche perché Si può scrivere Direttamente Nell'attributo Soprattutto se L'azione è immediata Quindi non c'è Tanto codice Da scrivere Oppure La modalità più classica Scrivere una funzione Mi raccomando Di Non fare Questi errori Nel senso che Se Dobbiamo passare L'handler Questo qui Passato come props In React In React Oppure Messo come Handler Relativo ad un Evento On change On click Eccetera Bisogna passare La funzione Non Chiamarla Funzione E tantomeno Ovviamente Passare una stringa Che corrisponde Al nome della funzione Quindi Una cosa di questo tipo Funziona Perché prima Abbiamo definito Handler Come variabile Che è un riferimento A una funzione In una maniera o nell'altra Fa lo stesso Ma Se noi La passiamo Con la parentesi Tonda Questo è sbagliato Perché Perché lì La stiamo chiamando Cioè questa è un'espressione JavaScript Viene valutata Quindi si chiama La funzione Handler Quindi si esegue E poi si prende Il valore di ritorno E si passa Come Properties Che ovviamente Non è quello che vogliamo Ancora peggio Ovviamente Passare una stringa No Questa è proprio Non ha alcun senso Perché qui Stiamo passando una stringa Che non c'entra assolutamente Niente con la funzione Quindi occhio Non chiamarla Funzione Questo è proprio Uno degli errori tipici Che magari ogni tanto Ci fa dire Ma perché non viene chiamato Il nostro Handler Beh Perché in realtà L'ho chiamato Ma nel momento in cui Lo passavo Non Non gli do una funzione Che viene chiamata Dal browser O comunque Da React Quando ne ho bisogno Ok E quindi come faccio Nel momento in cui Devo passare I parametri Perché se non posso Aprire parentesi Tonde E scriverci dei parametri Magari il mio Android prende dei parametri Questa è una funzione Che ho fatto io Poi Andrà Eventualmente A chiamare qualcos'altro Però questa Lender È una funzione Che faccio io Se devo passare I parametri Come faccio Se non posso Scrivere Aperta Tonda Beh Allora Devo Usare questa sintassi Nel senso che Ecco Qui ci viene Comoda La row function Perché è una scrittura Molto compatta No Se voglio chiamarla Con dei parametri Faccio così Prendo La La Cioè Passo Una Una funzione Che è Tutta questa espressione Scritta sotto Forma di row function In questo caso È una funzione Che non prende nulla Come parametro Che poi Chiamerà La mia Il mio handler Come voglio io Quindi Con i parametri Senza parametri Però questa è Una funzione Cioè All'interno Delle graffe Ho Una Espressione JavaScript Che Valuta Viene valutata Come una funzione Questo Funziona Nel senso che È quello che voglio Io voglio passare Una Un'espressione Che sia una funzione Che possa essere richiamata Cioè Voglio passare Una callback Se voglio Qui posso mettere Event Perché abbiamo detto Che in realtà Quando vado Sugli Sugli eventi Qui Mi viene passato Event Se non metto nulla Lo ignoro Perché so già Che nel mio handler Non serve Altrimenti Lo metterò E poi Se serve Lo passerò Al mio handler Ok Ovviamente Nel caso più semplice Se non ho niente Da passare Viene automaticamente Passato E quindi Se volesse usarlo Qui dovrei mettere Un parametro Event E poi dovrei usarlo Nel mio codice Stessa cosa qui Nel mio codice Vediamo poi Nell'esempio Stamattina Come fare Queste cose Ok Bene Quindi abbiamo fatto La premessa Di come gestire L'evento Questo in realtà È un discorso Generale Finora Che vale Sia per i form Sia per gli eventi In generale Quindi Non clic Su qualsiasi cosa Funziona Nella stessa maniera Adesso Andiamo a parlare Un po' più specificatamente Dei form Quindi Abbiamo ragionato L'altra volta Sulla questione Dello stato Chi tiene Lo stato In react No Cos'è lo stato È un qualcosa Che bisogna Ricordare Tra un Rendere L'altro Del componente A differenza Delle properties Che ci vengono Tutte le volte Passate Quindi Nel momento In cui abbiamo Un form Che può Contenere Dei controlli Che hanno Dei valori È chiaro Che questi valori Sono per forza Uno stato Perché Tra un rendere E l'altro Devono Mantenere Il valore Cioè Io L'utente Scrive qualcosa In un campo Di testo E se react Vuole Fare Il render Di quel campo Di testo Non è che Mi può far Sparire Il contenuto Perché altrimenti Non riesco a fare Nulla Devo Mantenere L'informazione E quindi Questo è Uno stato E quindi Tutti gli elementi Del form Sono per forza Stateful Cioè Hanno uno stato Per definizione Perché È quello Che è quello Che l'utente Vuole Selezionare Vuole Scrivere Vuole fare Con quel controllo Però In react Il problema È che Sono i componenti Che devo Mantenere Lo stato Non gli elementi In html E quindi Se voglio Far funzionare Tutto bene Con react Il risultato È che React Deve Sapere Qual è Il valore Da inserire Nell'elemento Del form Quando Deve Fare Render Del form E degli Vari elementi Dei controlli Del form E quindi Il risultato È che Se voglio Implementare Dei form Con la filosofia Di react Devo Andare A Agganciare Tutte le volte L'evento Di Quando Cambia Tutte le volte Qualcosa All'interno Di un qualsiasi Controllo Del form E questo Lo faccio Con quell'evento Che dicevamo Prima Che è OnChange Tutte le volte Che cambia qualcosa Sul controllo Del form Io devo Notificare React Cioè Devo eseguire Una callback Che mi vada A impostare Da qualche parte In react Il valore Nuovo Quindi Il fatto che L'utente Ha scritto Un carattere In più Piuttosto che Ha fatto Un'altra Selezione E così via Così che All'eventuale Prossimo Rerender Di react Il valore Corretto Venga mostrato All'interno Del form Ok Tra l'altro Il render Capiterà automaticamente Perché se io Mantengo L'informazione Dentro uno stato E questo stato Viene usato Per dare il valore Al controllo Del form È chiaro Che tutte le volte Che vado A modificarlo React Automaticamente Mi Mi Aggiorna Mi fa Rerender Del controllo Del form Ok Quindi Abbiamo questa Questione Dello stato In react Lo stato Dove essere Gestito Dal componente E se ho Dei form Quindi tutte le volte Che nei form Cambia qualcosa Devo andare A notificare React React Nel senso Il codice Che ho scritto Io Nel componente Che scrivo Io Che fa parte Però Della filosofia React È un componente React Ok La questione È a questo punto Mi potrei chiedere Perché devo Tenere l'informazione Dentro il mio stato Quando in realtà Una sorgente Di informazione C'è già Ed è Il controllo Del form Cioè I form Esistevano Anche prima Che esistesse React Nel DOM Io Posso Manipolare Mantenere L'informazione Presente All'interno Del controllo Del form Che è il campo Di testo E non è che ho bisogno Di agganciare Del javascript Per far funzionare Un campo Di testo Poi scrivete Input type Uguale text In un qualsiasi Documento HTML Senza nessun Javascript E funziona Tutto Però la questione È dove Mantengo L'informazione Diciamo che Nel momento In cui Faccio Come vi ho appena Detto Cioè Non scrivo Nessun javascript Non faccio Niente Lascio Fare Tutto Al browser Quindi Controlla Il comportamento Di tutti gli elementi Della pagina Nel momento In cui c'è un form L'informazione È la sorgente Della verità Cioè Il posto Dove c'è L'informazione Autorevole Su cosa C'è dentro Il form È il controllo Stesso del form Cioè L'HTML E questi Sono i cosiddetti Componenti Uncontrolled Nel senso Che Diciamo Sono quelli Fatti a vecchia maniera Prima Di usare L'approccio Tipo React Che invece Vuol mantenerlo Nello stato Oppure Eventuali Componenti Molto particolari Di tipo Read only Dove io non posso Impostare il valore Come per esempio Selezioni di file Ma questo Diciamo Un caso Un po' Particolare La questione È che Tutti i componenti Prima di Diciamo Usare una filosofia Come quella Di React Sono loro Che mantengono L'informazione Di stato Cioè Io posso Sempre andare A fare Punto value Di quello Che c'è Nel controllo Del form Campo di testo Piuttosto che La texteria Piuttosto che Le varie Selezioni Eccetera Mi viene detto Cos'è che è Selezionato In quel momento Cosa c'è scritto In quel momento Però questo Si discossa Un po' Dalla filosofia Di React Che è quella Che Tutto lo stato Dell'applicazione Va mantenuto Nei componenti Quindi La filosofia React È questa qui A sinistra Componenti Controlled Controllati Potremmo dire Controllati Da React Quando I componenti React Mantiene Nel suo stato Il valore Da mostrare Nell'elemento Del form Questo lo chiamiamo Controlled component Componente controllato Ed è la maniera Preferibile Da utilizzare Quando abbiamo I form In React Ovviamente C'è da scrivere Un pochettino Di codice Però Diciamo Che Questa È la cosa Che si Integra Meglio Con La filosofia React Che Quella Di avere L'informazione Dentro Il componente E poi Sulla base Di qual è L'informazione Decidere Di fare Rerender Quando Necessario Ok Vediamo Stamattina Appunto Un esempio Proprio Di come Fare Questo E poi Lunedì In laboratorio Dovrete provare A fare Questa cosa Sempre con La solita Applicazione Dove avete I task Per raggiungere Nuova task Due caselle O tre caselle Non mi ricordo Più Di testo In cui L'utente Può scrivere Qualcosa E poi Bisogna Aggiungerlo All'array Di task Ok Quindi Questo è lo schema Di funzionamento Di controller Components Secondo La filosofia React Cioè Io qui Ho il componente Che ha Uno stato Che creiamo Come siamo abituati A fare Come abbiamo visto L'altro volta UseState X Quindi la variabile Che contiene L'informazione E set X Che è Quello che mi Consente Di cambiare Nel valore E Sulla base Di questa informazione Io creo Il controllo Cioè L'elemento Del form E come faccio? Farò Creerò L'elemento Come mi pare Direttamente Con minore Input Oppure Usando I form Di react Bootstrap Insomma I componenti React Bootstrap Faccio come voglio L'importante È che metto Come value Non come default Value Mi raccomando Ma come value Cioè il valore Corrente Il valore Dello stato Ok Perché tutto funzioni Bisogna che questo stato Lo aggiorni ogni volta che Scatena Si scatena un evento OnChange Cioè l'utente fa qualcosa Aggiungi un carattere Cancella 1 E così via Cosa faccio? All'onChange Bene All'onChange Prendo l'evento E faccio il set Nello stato Di event target Value E qui vedete La comodità Di avere l'event target Così posso andare A recuperare direttamente Il riferimento All'elemento Del form E poi faccio Punto value Direttamente il valore E lo imposto in x Questo Fare set Dello stato Fa sì che React scatena Render E ricreerà Il nuovo elemento Del form Con il nuovo valore Quindi l'utente In realtà Non vede nulla Ma io ho Intercettato Quello che lui ha fatto E Quello che lui ha fatto Viene aggiornato Ma tramite questo giro Non direttamente Come succederebbe Se non ci fosse Nessun javascript Il vantaggio Di fare questo giro E che io ho in x Sempre il valore Aggiornato Di quello che c'è In value In visualizzazione All'utente Mi raccomando Questo significa Anche che devo Agganciare L'on change E passare Change x Che è l'handler Che mi son creato io Per aggiornare Lo stato Quindi Non basta passare Solo il value Aggiornato Ma tutte le volte Bisogna passare Sul on change La funzione Che deve essere Richiamata Per fare questo giro Quindi in parole povere Possiamo dire Che il componente Controllato È Diciamo Componente In cui Il javascript Imposta il valore E poi aggancia L'on change Per poter fare Questo giro E quindi Mantener l'informazione Nello stato Qual è l'alternativa Ah no C'è un esempio C'è poi l'alternativa Dove invece Non si fa questo giro Ma appunto Dicevamo È la versione Uncontrolled Che tra l'altro Non racconteremo Perché Non va A fare Diciamo L'aggiornamento Secondo Appunto La gestione Secondo la filosofia Rea Se noi Usiamo Un framework Ci interessa Mantenere Cioè A tenerci Più possibile Alle modalità Di programmazione Previste dal framework Perché altrimenti Non Traiamo Poca utilità Dall'usare un framework C'è una domanda Bene Così Interrompiamo un attimo Tutto questo lungo discorso In questo caso Il nuovo valore Dipende dal vecchio Ad esempio Se nel formo scritto Ciao E poi aggiungo una o Il ciao Dipende dalla stringa Ciao di prima Perché semplicemente Andiamo a settare lo stato Anziché usare la callback E perché Diciamo Che il nuovo valore Ci è dato Non è che Lo possiamo calcolare Dal vecchio Cioè Noi possiamo Solo prenderlo E Value Non ci dà La variazione Value Ci dà il valore E quindi Più che impostarlo Non possiamo fare Ok Quindi Che so Adesso Non è il caso Del Sì Supponiamo Che so La selezione Da una lista Io non so Se l'utente Ha selezionato Il primo Il quinto Il sesto Cioè Sono io che devo Prendere Quello che mi viene fuori Dalla selezione Dall'interazione Che ha fatto L'utente Col foro Il meccanismo Serve qui Più che altro A mantenere Aggiornato X Coerentemente Con ciò Che viene Visualizzato E quindi Ciò che vuole Inserire L'utente Ok Quindi questo Ecco Questo È uno dei Dei casi In cui la callback Non Non la dobbiamo Utilizzare Perché non sapremmo Come utilizzarla Nel senso Il valore vecchio Prendiamo E lo buttiamo via Possiamo scriverlo sotto For me Callback Ma Siccome buttiamo via Il valore vecchio Non ci serve Ok Quindi Questo è l'esempio L'implementazione Così ce l'avete Come riferimento Sulla slide Di quanto abbiamo detto Supponiamo Di avere Un nostro Controllo Del form Anzi qui c'è Il form intero In realtà Form Più Un input No Quindi Tutto il form Ma in realtà È solo una casellina Input Type Text Quindi dove posso scrivere Value Cos'è? Value È il valore Dello stato Come dicevamo prima C'era x E qui c'è name E poi OnChange HandleChange Che mi sono scritto qui Che è esattamente Quello che abbiamo scritto Prima sulla slide Set Name Che è questa Che è la callback Restituita dalla use state E set EventTargetValue E poi E questo Diciamo Farebbe già funzionare Tutto Devo solo Fare attenzione Quando ho i form A evitare Che Un Che so Un invio Dentro un form Piuttosto che La pressione Nel bottone Submit O cose di questo tipo Mi invino Il form Che mi Dicano al browser Ok Invia i dati Del form Al server E Quindi carica Una nuova pagina Che mi distruggerebbe Tutta la mia applicazione Per cui mi faccio Anche un handler Submit Questo dovete Praticamente farlo Sempre Che Dove è andato a finire Ecco Che aggancia L'on submit Del form E che Vabbè Fa quello che gli pare Vogliamo fare un console Long Giusto per Per divertimento Va bene Però Soprattutto fa Il prevent Default Cioè evita Che il form Venga inviato Al server Questo evento Prevent Prevent Default Blocca L'azione di default Associata al form On submit Cioè Ricarica La pagina Mandando i dati Al server E poi Vabbè Il console log Ci stamperà L'ultimo valore Che ha visto Il name Che dovrebbe essere Anziché sarà Il valore Presente nel form Ok Il form Non controllati Invece funzionerebbero Diversamente Non li vogliamo descrivere Accenniamo solo Al fatto che Quindi Se non c'è lo stato In react Quindi L'on change Non è più da agganciare Perché è automatico Per il browser Andare ad aggiornare Il value Del componente Scusate Del componente Del controllo Quindi Dell'input Type Test Dell'input Qualsiasi cosa Textare Eccetera Col nuovo valore E quando ne abbiamo bisogno Lo andremo a prendere In questa Diciamo Submit form Quindi Sull'on submit Quando l'utente ha finito Di fare le sue cose Ci notificherà In qualche maniera Per esempio Col battone submit Con invio Non lo so Con qualsiasi meccanismo E noi Nell'endere Di questo evento Andremo a salvarci I dati Cioè Dentro questa Save data Faremo Prenderemo Il value Dei vari Controlli Che ci interessano E ne facciamo Quello che vogliamo Non avendo lo stato Non dobbiamo impostarlo In uno stato Ma Faremo quello che vogliamo Cioè Ci ha dato Un nome Cognome Eccetera Dipende Dalla logica Applicativa Cosa Andiamo A fare Ok Al massimo In questo caso Possiamo impostare Un default value Che Non essendoci uno stato Ci deriverà Da qualcun altro Cioè Sarà una properties Che passiamo Al componente Se Se vogliamo farlo Prima Qual era il default value Era di fatto Il valore iniziale Che avevamo messo In new state Non avendo messo niente Non c'era nulla Quindi Era stato undefined Cioè In parole povere Il controllo Non aveva Nulla Di scritto Ok Se avessimo Voluto Avere qualcosa All'inizio Avremmo dovuto Impostarlo Appunto Come valore Iniziale Dello stato Così al primo render Veniva visualizzato Come valore Quello che ci interessava Ok Quindi Questo modo Di procedere È alternativo Ma dicevamo Non segue La filosofia react Per cui Qui L'abbiamo detto Ma Non Lo Approfondiremo Ulteriormente Ok Ok Occhio A queste cose Le ho già dette a voce Però qui Trovate scritte Un form Genera ad un certo punto Un evento submit Quindi In qualche maniera Col bottone di submit Con un invio Da qualche parte Eccetera Noi dobbiamo Sempre 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 Chiamare Event Prevent Default Nella Ender Di on submit Per evitare la sottomissione Altrimenti ci ricarica la pagina E la nostra applicazione Single page application È finita Perché perde tutto Ricominciamo da capo Ricaviamo tutto il javascript E tutto E Non Non vogliamo far funzionare L'applicazione così Quando Avremo la possibilità Di comunicare con il server Chiameremo delle funzioni javascript Che comunicano Col server Se questi dati vanno sul server Possiamo farlo Ma lo faremo noi Programmando noi Questo comportamento Ok Ecco Prima di andare avanti Ovviamente Ad un certo punto Sarebbe bene validare I contenuti del form Che so Io chiedo Un campo di testo Che sia massimo 10 caratteri Ok Vado a verificare Che sia 10 caratteri Chiedo un numero Che sia Un intero Vado a vedere Che non sia con la via Chiedo una data Che non sia Più indietro di oggi E devo verificare Questa cosa Eccetera In parte Posso delegare Questi comportamenti Ai form html5 Che hanno degli attributi Che mi consentono Che mi consentono Di diciamo Di verificare Questo comportamento Ma devo fare Attenzione Attenzione Nel senso che Devo sapere bene Come funzionano Questi Questi controlli E poi E poi E poi Comunque Ad un certo punto È sempre bene Fare una validazione Esistono Tanti modi Di fare la validazione Il primo modo Ovviamente Di fare tutto a mano Io quando ricevo Non submit Ho nello stato L'informazione Di tutto Il contenuto Di tutti i controlli De form Che mi interessano Faccio i miei conti If Quello stato È maggiore di Minore di Eccetera Oppure La lunghezza È più lunga di Faccio qualcosa Se non mi va bene Devo decidere Che cosa fare Mostrare un messaggio Di errore Non so Evidenziare Il controllo Che non Che dà fastidio E così via Dovrò decidere Che cosa fare Ma questo dipende Dalla logica Dell'applicazione Perché dipende Da cosa volevo Raccogliere Da parte dell'utente Esistono Delle librerie Che ci possono Aiutare A fare questo lavoro Noi qui Le accenniamo Ma non le vedremo C'è questo Validator Che funziona Tra l'altro Interessante Perché funzionerà Sia lato client Sia lato server Cioè si potrà Anche usare Sul lato server Per fare la validazione Lato server Che è un altro punto Dove poi ne abbiamo Necessità Oppure Esistono Librerie Anche un po' Più sofisticate Come per esempio Questa formic Che consigliamo Ma più che altro Nel momento in cui Doveste fare Dei form Complicati Perché per fare Due controlli All'inizio Soprattutto all'inizio È meglio provare a mano Come andiamo a fare Adesso noi Però è anche vero Che realizzare Che realizzare Dei form Con i componenti Controlled È abbastanza Noioso Perché il meccanismo È complicato Cioè io devo Avere una variabile Di stato Devo sempre Fare il render Con i due attributi Devo farmi La handler E così via Questo per ogni Controllo Del form Nome Cognome Indirizzo Numero di telefono Eccetera Pensate Se ce ne sono tanti La faccenda diventa Un po' Noiosa E complicata E può Condurre ad errori Per cui esistono Nelle librerie Che diciamo Con un qualche Meccanismo Descrittivo Ci consentono Di realizzare I form E fanno Diciamo Questa implementazione Per noi Senza Ecco Una libreria Dovrebbe però Cercare di non Astrarre troppo Consentendoci Quindi di Accedere Ai valori Del form Per esempio Se ne avessimo bisogno Senza usare Una sintassi Un meccanismo Troppo complicato Noi abbiamo Consigliato questo Perché ci sembrava Abbastanza ragionevole In questo senso Ok Quindi Ecco Tra l'altro In generale Queste librerie Includono anche Dei meccanismi Di validazione E così via Quindi Diciamo In parte Ci aiutano Non solo Per la scrittura Quei Quei Quegli handler Per gestire Lo stato In react Del Del valore Del controllo Nel form Ma anche Per fare Tutto il meccanismo Di validazione Eccetera Eccetera Magari Fornire anche Dei messaggi Esplicativi All'utente Sul componente Sul controllo Del form E così via Ok Direi che Ah no scusate C'è ancora un pezzettino Giusto Importante Questo E poi Andiamo a provare In pratica Piccolo appendice Su quello Che abbiamo visto L'altra volta Sullo stato No Perché Perché nel momento In cui Poi dobbiamo Aggiornare lo stato Con Per esempio I dati Che ci arrivano Da un form Dobbiamo fare Degli aggiornamenti Dello stato Un po' più complicati Di quelli Che abbiamo visto L'altra volta Dove fondamentalmente Erano dei set Di un qualche valore Di un elemento semplice Quindi un boolean Una stringa Eccetera Diciamo che noi Raccogliamo delle informazioni Col forma Che so Nel laboratorio Prenderete un nuovo task Noi qui Proviamo con quell'esempio Degli esami E prenderemo Il voto Di un nuovo esame Ma non solo il voto Il nome dell'esame La data Il voto Eccetera E vogliamo aggiungerlo Ad un altro stato Che è lo stato Che mantiene Che so Il contenuto Della tabella Della lista Dei task Degli esami E così via E quindi Cosa facciamo Beh Abbiamo deciso Dove mantenere lo stato Che è la lista Di quello che ci interessa Visualizzare Faremo set Qualcosa Il nome della variabile Che mantiene Quello stato Che tipicamente È un oggetto complicato Complicato Nel senso che O un oggetto javascript O un array javascript Diamo un'occhiata A quello che è necessario Fare in queste funzioni Per farle funzionare Correttamente Quando abbiamo Degli oggetti complicati Cosa che abbiamo lasciato Un po' In sospeso Dall'altra volta Tutte le funzioni Che impostano Lo stato Quindi anche Incluse le callback Che React Ci dà Tramite Dux Della UseState Richiedono Per funzionare Che quando abbiamo Oggetti complessi Si passi Un nuovo oggetto Ok Quindi un array Si deve passare Un nuovo array E un oggetto Si deve passare In riferimento A un nuovo oggetto Ok Non basta Prendere Nell'array E cambiare Un elemento Dell'array Perché il riferimento All'array Rimane lo stesso Vi ricordate All'inizio Quando abbiamo parlato Di javascript Avevamo quel sistema Come si chiama Python tutor Ma in realtà Per il javascript Ci faceva il disegnino Con le frecce Quali erano Il riferimento Il riferimento All'array Bene Noi non possiamo andare Nello stesso array Dobbiamo cambiare Il riferimento La variabile Può restare la stessa Ma il riferimento Cambia Quindi in realtà Siccome la variabile Il parametro Che possiamo La set Non c'è la stessa variabile Però dobbiamo cambiare Il riferimento Che vuol dire Che se c'è un array Dobbiamo creare un nuovo array Se c'è un oggetto Dobbiamo creare un nuovo oggetto Ovviamente Se c'è della roba Che resta Dobbiamo riportare Nel nuovo array Nel nuovo oggetto La roba vecchia No? Però Per far capire A React Che qualcosa è cambiato React va a vedere Se il riferimento È uguale A quello di prima No? E questo vale Sia al primo livello Quindi al livello Del parametro Della set Ma anche Ai livelli interni Quindi se noi abbiamo Un array di oggetti E abbiamo cambiato Un oggetto Dobbiamo Cambiare il riferimento All'array Quindi creare un nuovo array E poi Per quell'oggetto Che abbiamo cambiato Magari solo una proprietà Di quell'oggetto Dobbiamo creare Comunque un nuovo oggetto Ok? Se invece sono string E numeri Eccetera Questo è più immediato Perché Perché cambiando il valore Lì automaticamente Cambia il riferimento Perché non c'è un riferimento Per le stringhe Boolean E i numeri Nel caso in cui Aggiungiamo una cosa È facile Perché prima non esisteva E quindi è chiaro Che il riferimento è nuovo Però nel caso di modifica E può essere un po' più Come dire Bisogna fare più attenzione No? Quindi andiamo a vedere Tre o quattro casi tipici Di questo aggiornamento Dello stato Per sapere come gestirli correttamente No? Quindi nel momento in cui Abbiamo un nuovo Un nuovo array Quindi Dobbiamo Cambiare Il contenuto Dello stato Che è un array Dobbiamo sempre creare Un nuovo array Ok? Ecco E poi Se dipende Dallo stato precedente Usiamo una callback E visto che Abbiamo imparato Quelle funzioni Diciamo Che Sono in grado Di creare un nuovo array A partire da un vecchio array Quindi la programmazione funzionale Come l'abbiamo chiamata In javascript Applicata di array Usiamo quella Perché Vanno benissimo E rendono il codice Compatto Abbastanza Leggibile E però Ci garantiscono Allo stesso tempo Che venga creato Un nuovo riferimento No? Quindi casi tipici Voglio aggiungere Voglio rimuovere Voglio aggiornare qualcosa Ok? Andiamo a vedere Come implementarli Aggiungiamo qualcosa In un array No? Come si fa? Diciamo Noi abbiamo Il nostro stato List Chiamiamolo list List Set list Use data Ci sarà un array Qui è un esempio Teorico C'è un array Questo è un array Di string Ok? Voglio aggiungere qualcosa New item Una nuova stringa Come devo scrivere Quello che scrivo Dentro set list Set list Quindi lo scrivo Sotto forma in callback La hold list Cosa faccio? Return Hold list Con cut Col nuovo elemento Ok? Questo può essere Sia una stringa Sia Un numero Qualsiasi cosa Un nuovo oggetto Perché tanto è aggiunto Quindi per forza Reference nuovo Mi raccomando Allora Bisogna sapere Bisogna ricordarsi Ma Imparato una volta Si sa Che la con cut Non agisce sul vecchio array Ritorna un nuovo array Ok? Quindi Qui Abbiamo risolto il problema Con cut Mi raccomando Non push Push Modifica il vecchio array E in più Ritorna il numero di elementi Non l'array Quindi se io scrivessi Return All the list Push New item Return All the list Quindi ritornando L'array Non va Perché il riferimento è lo stesso Non posso ritornare All the list Se ritorno All the list React Non si accorge Che io ho cambiato L'array Perché? Perché deve fare in fretta A fare l'aggiornamento Allora Per fare l'aggiornamento Il suo algoritmo è Verifica se il riferimento è lo stesso Se il riferimento è lo stesso Non c'è niente da cambiare Fine Risultato Non ho l'aggiornamento A schermo Perché non mi Aggiunge nel Virtual DOM E quindi nel DOM Il nuovo elemento Ok? Ok Questo era l'aggiunta alla fine Con cut Aggiunge alla fine Se avessi bisogno di aggiungere all'inizio Bene Come faccio? Beh questa è una possibilità Lo spread Ci viene molto comodo Quindi Ritorno Un nuovo array Apro le quadre Quindi per forza Un nuovo array Se apro le quadre New item Uno, due Quello che voglio Spread Hold list Che è la vecchia lista Questa è l'aggiunta all'inizio Questo è il modo più semplice Per implementare l'aggiunta All'inizio Se ho bisogno dell'aggiunta all'inizio Ok Veniamo all'aggiornamento Questo è un po' più critico Perché l'aggiornamento Allora Va bene Devo trovare un modo Di dare un nuovo Riferimento All'array E va bene Basta che Lo copio Banalmente Ma in realtà Devo anche cambiare qualcosa Allora Come faccio a cambiare qualcosa Beh Diciamo che potrei Scorrere tutto l'array E quando ho bisogno Inserire qualcosa di nuovo Qual è la funzione Che mi consente Di fare questo? La map Mi raccomando C'è chi Ha l'idea Di usare la for each La for each Non è tanto adeguata A questo caso Perché Perché la for each Ho una callback Che viene richiamata Su ogni elemento Ma non è che mi Automaticamente Crea un nuovo array Quindi io dovrei Prima creare Un nuovo array Poi farò una for each In una for each In cui faccio push Nei nuovo array Del vecchio elemento Se non lo devo cambiare Oppure con un if Un qualcosa Cambiare il nuovo elemento No? Questo approccio Non mi piace Perché Prima di tutto Abbiamo una funzione Più semplice Che fa la stessa cosa E secondo Stiamo passando Una callback A un for each Che ha Un side effect Che non è La fine del mondo Però Visto che La for each L'abbiamo visto In un contesto Di programmazione funzionale Avere dei side effect Quindi modificare Un array Al di fuori Di quello che si sta Scorrendo Non è il massimo Ok? Quindi Non è impossibile Farlo con la for each Ma bisogna farlo Con molta attenzione E poi Non è bello Per questo motivo Invece Se abbiamo una map Abbiamo il vecchio array Quindi in questo caso 11.42.32 Map Eseguiamo La callback Dentro la map Per ogni valore Quindi per ogni elemento Dell'array Possiamo prendere Non solo l'elemento Ma anche l'indice Non vi ricordate Questo callback Prende due valori In realtà 3 C'è anche L'array Ma in questo caso Non ci serve Perché l'indice? Perché magari Ho bisogno Di andare a fare Una modifica In una certa posizione Data dall'indice Nell'array E quindi Ci può venire comodo I è l'indice Dell'elemento Da aggiornare Quindi se I J Uguale a I Allora Ritorno Il nuovo elemento Diciamo che volevo Sommare uno All'elemento I Esimo Supponiamo che I fosse Due Zero Uno Due Il trentadue Diciamo Avrò Trentatré Però io qui posso Fare qualsiasi cosa Ritornare un oggetto Ritornare quello Di cui ho bisogno L'importante è che sia nuovo Sia un nuovo oggetto Se è un oggetto Se è un array Se è un qualsiasi cosa Che sia nuovo Nuovo riferimento Altrimenti Altrimenti Il riferimento può rimanere Lo stesso Quindi l'item Pertanto se non è cambiato React Va benissimo Che rimanga il vecchio riferimento Quindi Set Old list Ok Set Old list Freccia Quindi Questo è il vecchio stato Nuovo stato Cost list Eccetera Return list In realtà avrei potuto scrivere Anche direttamente Return Old list Punto map Oppure freccia Old list Punto map No Beh no In realtà Dovevo mettere Return Perché Se no Il valore dell'espressione Sì Ma il valore dell'espressione Dovrebbe andare Quindi deve essere Il riferimento Al nuovo Oggetto Al nuovo array Ok Quindi questo è il modo Di aggiornare Ecco Quando degli oggetti Occhio Facciamo un esempio Un po' più complicato Id3 Valore fu Id5 Valore bar Map Condizione Qualsiasi Per determinare Qual è L'oggetto Che devo andare A cambiare Return Nuovo oggetto Aperta graffa Nuovo oggetto Id Due punti Item id Val Uguale Nuovo valore Qui posso scriverci Quello che voglio Secondo di cosa Devo fare Cosa devo aggiornare Se devo copiare Tutto il vecchio oggetto Potrei fare Come avevo scritto Su Slack Un vostro collega Che so Object assign Aperta graffa Chiusa graffa Quindi un oggetto vuoto Assegno il vecchio oggetto Quindi ci copio Tutte le proprietà Ma l'oggetto è nuovo Perché è aperta Chiusa graffa E poi ci sovrascrivo Le proprietà Di cui ho bisogno Oppure posso fare Usare la sintassi Con lo spread Che funziona anche Per gli oggetti Insomma Qualsiasi cosa Però Che si crei Un nuovo oggetto Ok Quindi la stessa sintasi Di prima Ma si crea Un nuovo oggetto Fare così è sbagliato Infatti l'abbiamo messo In grigetto pallido Cioè Non posso semplicemente Prendere l'item Aggiornarci il valore Return item Cioè Tecnicamente Solo per javascript Io ho Ho fatto la modifica Il problema è react In questo caso Non è javascript L'array è aggiornato Ha un nuovo valore Nell'oggetto Ma il problema è che L'oggetto è lo stesso Di prima Quindi Il riferimento All'oggetto è lo stesso Di prima È cambiata una sua proprietà E così Finisce che react Non se ne accorge Non ci fa l'aggiornamento Ok Mi raccomando Quindi Questo è sbagliato C'è una domanda Fare Un qualcosa di simile A Vettore I Uguale Nuovo valore Return Vettore Vi considerate Un brutto approccio 3i Nuovo valore Return Vettore Diciamo che No però Nel momento in cui Alla fine No alla fine Alla fine fa la stessa cosa Dell'altro sistema Però occhio che Se il nuovo valore È un oggetto Questo problema Di cui stiamo parlando qui Resta Il nuovo valore Deve essere un nuovo oggetto Se è un numero Un Un Come si dice Un Una stringa Un boolean Eccetera Va bene Se è un oggetto Qualcosa che contiene Qualcosa di più complicato Vale lo stesso discorso Però Return Aperta quadra Ritorna Un nuovo array Quindi Si può fare Una domanda più tecnica Cosa succede Del vecchio riferimento Sì JS Javascript È una sorta Di garbage collector Sì sì Non è una sorta Ma c'è proprio E sì Sarà un riferimento A qualcosa Che non è più Presente in alcuna variabile Non è più In nessuna closure E il risultato Che prima o poi Il garbage collector Lo libera Ok Quindi sì Non lo abbiamo mai detto Perché in realtà Con javascript Il problema Diciamo Della gestione La memoria È minore Perché Perché le applicazioni web Hanno un tempo di vita limitato Nel momento in cui È ricaricata una pagina Ricaricate tutta L'applicazione web Quella deve ricaricarsi Tutto lo stato Per esempio Da un server Eccetera E la memoria È completamente Reinizializzata Però sì Se fosse un'applicazione Più complicata Con tante Variabili Tanto uso Della memoria Eccetera Sì C'è il garbage collector E butterà via Riferimento al vecchio oggetto Primo o poi Ok Ultimo Caso E poi Passiamo all'esempio Rimuovere Elementi In Un array Bene Allora Se conosciamo l'indice O comunque una condizione Per Per andare a Determinare Gli elementi Da rimuovere Bene Abbiamo la filter La filter Ritorna un nuovo array Abbiamo già risolto Un nuovo problema Return Hold list La vecchia lista Punto filter Che in realtà Crea una nuova lista Un nuovo array E dobbiamo solo dare Una condizione Che Se vera Fa sì che Il vecchio Riferimento Venga messo nell'array Se nuova Cioè Se falsa Non viene messo Quindi Se i diverso da j È vera E quindi viene messo Altrimenti Se i uguale a j Non viene messo E così Rimuovo Un elemento Un certo indice Che sia Un valore immediato Sia un oggetto Sia un riferimento Non mi interessa Tanto questa volta Togliendolo Il problema Non si pone Al massimo si pone Quello che ha detto Il vostro collega Cioè Doveva finire Prima o poi Verrà deallocato Ci pensa javascript Posso sempre fare I miei soliti giochini Con lo spread Nel momento in cui Devo Che so Togliere il primo elemento Ok Va bene Posso A sinistra E quindi Di fatto Questo Crea Un nuovo array In cui escludiamo Un elemento Non perché ho scritto first Ma perché c'è una variabile Se io ho scritto abc Escludevo tre variabili all'inizio Ritorna Il nuovo array creato Quindi tutti i giochini Diciamo così Con lo spread E con le funzioni Filter Map Che avete imparato All'inizio Che non a caso abbiamo Diciamo visto Non solo per giocare Con gli array Ci tornano molto utili Per scrivere questo genere Di codici Ok Quindi Ci sono dubbi Io monitoro sempre slack Anche se ogni tanto Non sono proprio immediato Ultima slide Poi proviamo A fare qualcosa Proprio in pratica Dunque Riassumendo un po' Tutto il discorso Che abbiamo fatto Sullo stato E sui form Allora Avevamo L'altra volta Distinto Tra componenti Tipo presentazione E invece componenti Tipo diverso Che montengono Lo stato Dell'applicazione Adesso siamo in grado Di dire Un po' meglio Cosa possono essere I componenti Tipo presentazione I classici componenti Tipo presentazione Sono i form I form Quindi i controlli I componenti Controlled Dove abbiamo uno stato Ma lo stato Di fatto è Semplicemente Una replica Di quello che fa L'utente Del valore Che c'è nel form Del controllo Del form Oppure componenti Tipo presentazione Dove Se c'è uno stato È semplicemente Uno stato Di visualizzazione Ordina Ordina per I dati Sono sempre quelli Vengono passati Come prop O solo lo stato Di clic Qui o là Per dire Come ordinato Ma non mi cambia niente Nel senso L'ordinamento Lo faccio dentro Il componente È uno stato Sostanzialmente Locale Che fondamentalmente Visualizza Qualcosa In un certo ordine Piuttosto che Attiva Non attiva E così via Questo stato Non è interessante Al di fuori Del componente Quindi di solito Sta bene In quel componente L'altro stato Invece è lo stato Dell'applicazione Dove vengono In generale Mantenuti i dati Dell'applicazione E lo stato Dell'applicazione Per esempio Che vista Sto visualizzando Oppure sono In modo inserimento Piuttosto che In modo visualizzazione Piuttosto che In modo Superutente Piuttosto che Questo genere Di stato Uno stato Dell'applicazione Quindi andrà Mantenuto In un posto Diverso In un componente Che si occupa Di gestire Lo stato Dell'applicazione E questo Tipo di stato Generalmente È Sollevato Quindi mandato Verso l'alto Nei componenti Più alto livello Eventualmente Fino ad arrivare Ad app Perché? Perché lo stato È poi accessibile Solamente Ai componenti Al di sotto Mi raccomando Cerchiamo Assolutamente Di evitare La duplicazione Dello stato Perché è solo Fourier di Problemi Ma come Come in qualsiasi Sistema di Programmazione Se voi Modificate Se voi modificate La stessa variabile In due posti Diversi Del codice Ok La stessa variabile Va bene Ma se ne fate Una copia E la modificate Poi non sapete più Se è allineata Con il valore Originale Cioè Deve esserci La cosiddetta Single source Of truth Cioè Singola sorgente Di verità Un unico posto Dove c'è il valore Corretto Di quello Che vi interessa E questo In React Vale Soprattutto Per lo stato Io ho visto All'esame All'esame Vabbè Anche Non all'esame Diciamo anche Durante Il laboratorio Eccetera Degli studenti Che magari Avevano lo stato Nell'applicazione E poi Che so Si facevano Una copia Dei task Degli esami Della lista Degli esami Eccetera In un componente Che visualizza La tabella Non si deve Fare la copia Dello stato Perché se no Finisco per avere Uno stato Duplicato E poi Finirà Che quando Voglio aggiornare Qualcosa Aggiorno Quello sbagliato Oppure Finisce che Lo stato Copiato Non si aggiorna Quando aggiorno Lo stato Che è quello Dove vorrei mantenere La sorgente Della verità Cioè L'originale Perché Perché Sono due variabili Che mantengono la stessa cosa E come fare la cache La coppia temporanea D'uno stato Sapete Che uno dei problemi Più difficili Nell'informatica È l'invalidazione Della cache È una specie di barzelletta Ma ha la sua verità Nel senso che Mantenere le cose allineate È difficilissimo C'è il rischio Di sbagliarsi Molto molto facilmente Quindi Manteniamo l'informazione Solo In un unico posto Nello stato Decidiamo Dove metterla E se c'è necessità Si Si fa il lifting Cioè Si porta in su Fino eventualmente All'applicazione All'app Però Che ci sia Un unico posto Perché questo Ci semplifica Tutto il resto E eventualmente Se c'è bisogno Si passa Con le props Oppure come vedremo Nella seconda ora e mezza Si passa poi Con il meccanismo Del context Che rende un po' più facile La distribuzione Dell'informazione Ok Proviamo In pratica Ok Allora Io Ho preso Questa mattina Prendiamo Da react Scores Che è un repository Che avete Sul github E lo stesso Diciamo Dell'altra volta Non sto prendendo Dal repository Diciamo così Privato Del nostro corso Ma Più o meno Ci manteniamo Allineati Con gli altri Corsi Italiano Inglesi Quindi Andiamo pure A prendere Qui dentro Vedete che ci sono Diversi Branch Quindi Il with state Diciamo che è quello Che abbiamo fatto L'altra volta Quindi è quello In cui avevamo Il componente Tabella In cui c'erano gli esami Quindi io diciamo Che parto di qua Non è esattamente Uguale Identico a quello Che abbiamo Nel nostro repository Del nostro corso Quindi non è esattamente Uguale Identico a quello Che avevamo qui In Week 6 Perché? Perché in realtà Sono state aggiustate Un paio di cosine In più Che non avevo Aggiustato Durante la lezione E quindi Diciamo Non è perfettamente Identico Ma diciamo Che fondamentalmente È la stessa cosa Allora Io l'ho già scaricato Per questioni Di efficienza E l'ho già caricato Quindi Il risultato finale Ecco vi posso ancora dire questo Che il risultato finale Indipendentemente Da quanto riusciremo a fare È già presente In React Scores Nel Branch With Form Quindi adesso Aggiungiamo un form A quell'esempietto E poi Ci sarà Il With Context Non so se Riusciremo a farlo Anche Durante la lezione Comunque avete Quello che in realtà È riportato nelle slide Quindi è l'esempio Della slide Che poi sono Semplicemente riportato Direttamente In qualcosa Che potete Subito provare Quindi Andiamo a vedere In Visual Studio Code Quindi Questo è il progetto Che appunto Trovate In With State Quindi partiamo Da quello Prima di tutto Ve lo faccio vedere Quindi io ho già fatto L'npm install Eccetera Faccio Npm start Adesso Mi aprirà Spero Sì Ecco Il browser Così avete ben chiaro Da dove parto Partiamo Anzi Ci va come sempre Un attimino Ecco Gli esami Vi ricordate L'altra volta Abbiamo implementato La funzionalità Della cancellazione Fondamentalmente Questo E I controlli I Come si chiamano I controlli Componenti Non ci spuntano fuori Perché Ricarichiamo la pagina Vabbè Diciamo che Questa estensione Forse Bisogna aggiornarla Forse non è perfetta Comunque Insomma Avevamo Il nostro Exam Scores Exam Table No? Una exam table Che aveva Uno stato Perché avevamo deciso Di mantenere lo stato In exam table E che sono I quattro Corsi Poi avevamo Le row Che erano composte Dal dato E dai controlli Vedete Dato e controlli Ok Quindi In exam table C'è lo stato Nel momento in cui Faccia sparire qualcosa Lo stato viene aggiornato L'avete visto È sparito qualcosa Riproviamo E sparisce qualcosa Ok Quindi questo è il nostro Punto di partenza Adesso noi vorremmo Metterci un bel bottone Qui Dire Aggiungi Un esame Aggiungi un esame Quindi creiamo Schiacciamo il bottone Un form In cui scriviamo qualcosa E poi va a finire In questa lista Quindi aggiorniamo Lo stato Della tabella Ok Quindi Come facciamo Allora Io Dunque Sono in exam components Quindi qui c'è la Nostra Componente No Questo Tabella Exam table Quello che abbiamo visto prima A cui viene passata L'inizializzazione Quindi per ora Non abbiamo il server Quindi abbiamo queste variabili Costanti Anzi Queste costanti Che sono due array La lista di esame E la lista di corsi Passiamo Come properties Le inizializziamo Nello stato In exams Qui usiamo solo exams Il resto lo usiamo Per calcolarci il nome del corso Ma niente di particolare Avevamo implementato La delete exam Con set exams Ecco vi faccio notare Adesso Mi raccomando Filter E che è il modo Che abbiamo Visto prima Ma quando togliamo qualcosa È abbastanza facile L'unica cosa è che Non possiamo semplicemente Fare Prendere il vecchio array Andarlo a modificare Togliere di un pezzettino E lasciarlo così Dobbiamo ritornare Un nuovo array Ma la filter Lo fa automaticamente Per noi Se non lo facciamo così Mi raccomando C'è il rischio Che React Non aggiorni La visualizzazione Purtroppo dico rischio E non certezza Perché dipende Dall'implementazione Di React Però è sbagliato È sbagliato Perché React Ci richiede esplicitamente Questa cosa Di cambiare reference Perché così si accorge Che c'è qualcosa Da rirenderizzare Da rifare render E poi c'è la tabella Va bene Add body Nel body C'è una map Che prende la lista degli esami E crea gli elementi Exam row No Nel exam row C'è il dato E ci sono i controlli Che erano l'icona di edit Che in realtà Non fa niente Perché non abbiamo agganciato niente E il delete L'edit è un po' più difficile Cominciamo con L'aggiunta Come facciamo? Allora Io direi che Prima di tutto Facciamo in modo Di farci un Un componente Che visualizzerà il form Quindi Come sempre Fatemi fare un po' Di copia e colla Perché se no Non finiamo più E poi Cerchiamo di Evitare di Di scrivere Troppe cavolate Che poi vanno debuggate E il tempo Sempre tiranno Quindi Function Diamo un nome Qui abbiamo Pensato Exam form I parametri Cosa sono? Sono le props Chiamiamolo props Per Riuscire Ad avere sempre Stessi nomi Che ci facilitano La programmazione E poi Cominciamo con Return Diciamo che Facciamo un Form Qui potete Decidere Se farlo In html Se farlo Con Il React Bootstrap Insomma Decidete un po' Voi L'importante È che Diciamo Abbiamo un qualcosa Che Che sia Ragionevole Ecco Vi faccio Cominciamo con Un Controllo Più semplice Dunque Se andate a vedere Come fa I form React Bootstrap React Bootstrap Form Se volete usare Questo approccio Questo Un approccio Consigliabile Ma non L'unico Per ogni controllo Bisogna creare Un form Group E poi Facciamo una Label E poi Quindi Con il nome E poi Il controllo Vero e proprio Tipo email Quindi il form Control sarebbe Sostanzialmente Input In html Quindi diciamo Che cominciamo A fare Un Un controllo Che so Per il voto Quindi Perci Diciamo così Facciamo un po' Di Dunque Formato Control Shift I Ok Quindi Gli diamo un id Ma Sì Più che altro Perché può Venirci comodo Va bene La label Score Tipo numero Quindi Quando abbiamo Un numero Possiamo usare Un numero Il controllo Controlli HTML5 Hanno Dei attributi Specifici A seconda del tipo Per esempio Per il numero Lo posso specificare Il minimo Il massimo Ecco Poi commentiamo Questa parte Andiamo solo A vedere Che faccia Però prima Di vedere Che faccia Dobbiamo usarlo No Quindi Dobbiamo usarlo Quindi Quindi prima Dunque Lo mettiamo in fondo Alla tabella Io direi Come era stato fatto Qui Sì Diciamo Diciamo Che Facciamo Un Examform Cerco di Non fare Solo Copia e incolla Se no Diciamo L'utilità Diciamo Diventa Limitata Di questi esercizi Live Gli passiamo I corsi Ma giusto Per non dimenticarci Perché vorremmo Anche una lista di corsi Da selezionare Direi che In questo momento Forse basta Ok Examform Props Piccato per dopo Examform Props Props Vedio In realtà c'è ancora Lo score Lo vediamo Dalla compilazione Score Set score Ma perché? Perché questo è un controllo E quindi Nel momento in cui Vogliamo fare il controllo Allora Lo facciamo Facciamo un Controlled component E quindi Manteniamo lo stato in react E lo stato in react Lo manteniamo Facendo uno stato E quindi Proviamo a scrivere Il primo a mano Poi il resto Possiamo fare copia e incolla Però Almeno il primo Solita maniera di Di scrivere Lo stato Con look Quindi score Score Set score Mi raccomando di chiamare Le callback Sempre col set Perché Se no all'esame Non ci capiamo più niente Il risultato che Finisce che Se non ci capiamo Il voto Almeno il voto iniziale Finisce che Non è quello che vi aspettate Ok Diciamo Mettiamo un valore iniziale Si mettiamo 30 Ok Va bene Quindi abbiamo fornito Un score Set score Salviamo Faccio salva Control S Va bene Altri warning Che Vabbè Roba non usata Perché in realtà Ho cancellato Dalla fine Dal risultato Che avete già sul github Quindi abbiamo Un controllo Tipo number 1831 Il cui valore E lo stato E con la on change Cosa facciamo Prendiamo l'evento Set score Event target value Come abbiamo visto Sulle slide Set score E questa qui E quella della use date Quindi aggiorniamo lo stato Andiamo a provarlo Abbiamo fatto proprio il minimo Minimo per iniziare A provare qualcosa Almeno Credo Se non ci siamo Dimenticati qualcosa Ok Score 30 No In questo momento Il form compare sempre Quindi se vogliamo Possiamo fare un bottone Per far comparire il form Però Iniziamo da una cosa semplice Score 30 Andiamo a vedere cosa succede Nei components Che per qualche motivo Si vede che si caricano Solo all'inizio Va bene Allora exam form 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 In form No Exam form In exam form Abbiamo il nostro hook State Ok Tra l'altro ecco Se Se lo facciamo con No State Niente State 30 Se lo cambiamo 29 28 28 28 27 Vedete che viene Automaticamente Aggiornato Anche se ci scrivo Dentro una cosa Viene automaticamente Aggiornato Fatto Tab 4 Devo far perdere Il focus Per farlo aggiornare 24 Ok Quindi Le freccine ci vengono fuori Perché abbiamo fatto Un controllo tipo Number Se avessimo una stringa Potevamo scrivere Cioè Non ci venivano fuori Perché Non era un uomo Però vedete che abbiamo Un controllo di tipo Controlled Componente controlled Chiamo controllo Perché quelli del form Si chiamano Controlli Però Diciamo un input Di questo tipo Ok Quindi siamo in grado Di Gestire Il nostro primo controllo Del form Con Un controllo del component Cioè con lo stato Che riflette Quello che fa l'utente Legale Illegale Non cambia niente Nel senso che Vabbè Viene rosso Perché Perché sei al di fuori Di quel range Devo decidere cosa fare Dovrò andare a vedere Su react Bootstrap Cosa si può fare Ma Non mi interessa In questa maniera In questo momento Ok Quindi Nel caso Non avessimo passato Lo stato Avelio Avremmo comunque visto La modifica del valore All'interno del form Giusto No 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 Non passiamo allo stato Value Ok Quindi Facciamo così Dunque Spero che si possa aprire Il contesto Già scritto qui Non si vedeva la modifica Perché react ci fa No Non si può Si è giurato un pochino Ok Va bene Sa che No 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 Va bene Lo portiamo sotto Lasciamolo lì Ok Così funziona Sapete che il JSX È un po' Rognoso Con i commenti Vabbè Non posso commentare Dentro un attributo Ovviamente devo mettere la lista Di attributi Cosa succede In questo caso Succede che No Che resta Diceva se non avessimo passato Lo stato Avelio Avremmo comunque La modifica del valore All'interno del form Però Ho salvato Sì Set score Sì Però perché Perché evidentemente Si ricorda da prima Sì Che non è bello Mettiamoci default Ok 20 No Vabbè Evidentemente funziona Non è raccomandato Si vede che Non Non rifare render Per qualche motivo Mi sa che Perché diamo il valore immediato Quindi questo Insomma mi sa che È perché Non so perché Bisogna Che guardi Non so se magari È il form Di Di Boostrap Che si comporta In questa maniera Possiamo poi provare No L'altro è un Controlled Native control Possiamo provare Poi dopo Forse lo serva Nel value del DOM Sì Però Il punto è che Il punto è che Se mi viene ricreato Mi riprende Il valore Di default Però Evidentemente Non viene ricreato Non viene ricreato Ma solo aggiornato Quindi react Diciamo così È un po' più furbo E non ricrea Il controllo Ma Semplicemente Lo aggiorna E per cui Ci resta Ci resta E Diciamo che Non è un bel Vedere Nel senso che Facciamo un altro esempio Allora Perché Se io Voglio Ok Che restava Però Se Voglio Se voglio Fare Delle altre azioni No Vabbè Qui adesso Dovrei fare un handle Però se volessi Fare le azioni Che so Di Controllare Non so Io sto digitando Un Un campo di testo E non mi va Un certo carattere Io Nello mio On change Posso fare L'azione E posso impedire All'utente Di fare Quella cosa Quindi Che so Facciamo Proviamo un attimo E' sempre un po' rischioso Fare queste cose live Manda leggermente Autopica Con i file javascript Che usiamo per react Quindi con j6 Non va Usato Use strict No Use strict Ce lo fa automaticamente Diciamo React Nel senso Non abbiamo bisogno Di scriverlo noi Nei nostri file Però è come se ci fosse Ok Però è vero Interessante Domanda interessante Giustamente Ah no Qui c'è Form di troppo Quindi Form gruppa Cosa Cosa è successo qui Ehm Name Diciamo Nome Borso Diciamo Facciamo Facciamo solo una prova Text Questo Value Diciamo Cost Adesso sto un po' improvvisando Tanto per provare Tanto la soluzione ce l'avete Use state Diciamo String Vuota All'inizio Quindi Set Set Corso OnChange Quindi ci abituiamo a passare sempre lo stato anche al value di un for Per essere certi di visualizzare il stato corretto in un determinato momento giusto Sì 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 Assolutamente Quindi Cost And Corso Diciamo così Event Se noi facciamo Qui dentro facciamo il set corso Have target value Anzi scusate Facciamo anziché quello facciamo un Let value Let val Uguale Have target Value Facciamo Val Mi sembra cos'era Upper case Questamente non mi ricordo più Upper Forse Spero sia quella Set corso Val No Impediamo di scrivere in minuscolo Quindi qui Have Facciamo il nostro End Ando il corso End Corso F Ok Adesso spero che sia tutto a posto Sì Ho scritto qualcosa che ha senso Quindi avremo un secondo campo Text Che chiamiamo Testo Prova Giusto perché non è Poi lo buttiamo via Però Quindi Ando il corso Facciamo il set corso Val Value Val No Val Corso E' lo stato Quindi se facciamo il set corso Deve essere corso Questo qui Ok Non fatevi spaventare da Visual Studio Ci mette un po' ad aggiornare tutto quanto Ma Dovrebbe essere A posto Facciamo una prova Allora Testo prova Ciao Io sto scrivendo Adesso però ci manca qualcosa Val Upper Is not a function Allora Non mi ricordo più come si fanno le maiuscole In Nelle string Dunque Facciamo così tanto Dunque JS String Upper Che Testamente Non mi viene in testa Ata To Upper Case Ok To Upper Case EC Returns The curly string Converted Ok Tu Upper Case Perfetto Ovviamente Se uno non si ricorda queste cose Non è una tragedia Appunto Apre Google Apre qualcosa E prova N Mila Linguaggi di programmazione Ognuno fa Come vuole Dunque My exam No My exam Quindi Ricarichiamo Testo Prova Vedete Io sto scrivendo Senza la maiuscola Metto O tolgo La maiuscola Io sto scrivendo Con la minuscola E quello che compare La maiuscola Perché Perché io Se sono io Che decido Qual è il value Ci faccio mettere Nel form Quello che mi pare Poi vabbè Abbiamo scoperto Che Diciamo Anche se non l'imposto Poi Il controllo Per lo meno Quello React Bootstrap Mantiene L'informazione Del Che Ha già Il suo interno Però Potendolo fare Io Potendo gestirlo Io Posso andarlo A cambiare Posso andarlo A lavorare Direttamente Mentre l'utente Scrive Mi fanno scrivere Il codice fiscale Lo scrivete in minuscolo Intanto voi Gli fate il maiuscolo Senza che uno Abbia il maiuscolo Attivo Ok Quindi in questo senso Ci servono i form E i controlli I component Controlled Perché così Siamo in grado Di gestire Qualsiasi cosa Stia succedendo Nel form Diciamo così In tempo reale Ok Quindi Andiamo a Questo Lo buttiamo via Ce l'avete Nella registrazione Ma non è niente Di particolare No Abbiamo solo Fatto Vendo il corso E abbiamo Modificato il valore Al volo Ok Quindi Andiamo a farci Il nostro form Quindi io Butto via Tutto il vecchio Faccio un'incolla Che è lo stesso Che avete Sul 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 git Quindi Vi facciamo Così Nendo il corso Non ci serve più Se lo buttiamo via Ma No Sì Buttiamolo via Ma che se no Ci confronto È solo l'idea Quindi io qui Cos'ho Dunque CTRL SHIFT E Ordiniamo un po' Dobbiamo ancora scriverla Abbiamo un form Con tre campi Il corso Abbiamo lo score E la data Quindi Type No Questo select Una lista Un numero Che è quello di prima Da cui abbiamo iniziato Un tipo data Ok Andiamo a vederlo Così Ci rendiamo subito Conto Handle submit Post Handle submit Uguale Event Qui l'event Ci serve Perché Perché La prima cosa Che vi ricordo Di fare Event Prevent Mi suggerisce No Vabbè Default Prima cosa Da fare In un handle submit Soprattutto In un handle submit E poi Possiamo fare Quello che ci pare E Aggiungere La lista All'esame L'esame Alla lista Anzi Vabbè Però almeno Così compila Vediamo il form E il form È qui sotto Quindi course Con una lista Score Con un valore E una data E se usiamo Il controllo data Ci viene automaticamente Fuori la possibilità Di selezionare La data Quello so che sono Le 10 Però se ce la fate Io andrei Avanti ancora Un briciolino E cerchiamo di concludere Questo esempio Se no perdiamo il filo E così poi Nella pausa Facciamo Avete tempo Di pensarci Quindi Io Ho il form Quindi Nell'hand Submit Fondamentalmente Devo andare Aggiungere Ad aggiungere A che cosa Agli esami E come faccio Qualcuno Qualcuno mi deve passare Una funzione Ad exam Quindi quando farò L'exam for Qualcuno mi deve passare Una funzione Perché lo stato Non è dentro Exam for È in un componente A livello superiore Quindi qualcuno mi deve dare La callback Da usare Per aggiungere Exam Ok L'exam Ce lo creiamo Facciamo Cost Exam Uguale E da dove arriva L'exam L'exam arriva Dai valori Che abbiamo Nei form Quindi fondamentalmente È lo stato Quindi Avevamo tre proprietà Course Code Sarà Course Che è questa qui Course Virgola Poi score È lo score Quello che scrive a sinistra È il nome Della proprietà Dell'oggetto E quello che scrive a destra È il valore Date Date E qui l'abbiamo Già sistemato Con il dayjs Insomma bisogna solo Fare un po' attenzione A queste cose Essere coerenti Con quello che abbiamo Nell'array Nell'oggetto Nell'array Ok Ad exam Ah ad exam Mi sa che Era già scritto Da qualcuno No Non era scritto Allora Questo verrà Trovato a runtime Non c'è Quindi Nell'exam form Abbiamo già passato Procourses Passiamogli un po' Ad exam Uguale E allora Cosa mettiamo Su ad exam Ad exam Diciamo che Fondamentalmente Passiamo Una Una Funzione O ci scriviamo Da parte O scriviamo Direttamente qui Se è breve Proviamo a scriverla qui Exam Fondamentalmente Possiamo fare Sì Vabbè L'abbiamo scritto qui Ad exam Di quello Che ci viene Passato E in questo momento Basta E poi C'è anche Lo stato Usualizzo Nel form La ad exam Cosa fa Deve fare La set Exams Ecco Occhio che La set Exams È uno stato No Dove era Qui sopra E arriva Dalla use state Ad exam Commentate in alto Sì L'avevo Commentata Questa è una normale Funzione come quelle Che abbiamo visto Sulle slide Manipoliamo un array Aggiungiamo un elemento Come facciamo? Bene Questo è un modo Noi l'abbiamo visto Per aggiungerlo all'inizio Potete aggiungercelo Anche alla fine Oppure potete fare Il concat Se volevate L'importante Che ci sia Il nuovo array Se non c'è Il nuovo array Siamo A rischio Che non funzioni Ok Vediamo se Funziona Quindi Ok Ricarichiamo Quindi Ci sono Quattro esami Diciamo che ho dato Web application No Web application No l'ho già messo Viene brutto System and device Programmi Un altro di quelli Un po' difficile Sono stato bravo Ho preso 30 Anzi 30 e load 31 Va bene La data Quella di oggi Schiacciamo Schiacciamo Save Che è il bottone Submit E compare Ok Quindi Sono riuscito A modificare Lo state In Cos'era Exam 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 table E adesso 5 elementi Ok Bisogna stare un attimo All'occhio Vedete che Lo score è sotto forma Di stringa Non di numero Gli altri sono numeri C'è bisogno Di fare qualche piccolo L'aggiustamento Però fondamentalmente Abbiamo fatto funzionare Il form Ok Consentitemi di fare Un'ultima cosa Poi facciamo la pausa Promesso Questo form Facciamola apparire A sparire A sparire Al bisogno C'è il cancello Adesso Non fa niente Come facciamo A far apparire E sparire Qualcosa È uno stato Di visualizzazione Mettiamolo Dove serve Dov'è che serve Fondamentalmente Ci serve Nel codice Nel punto In cui Mettiamo Questo Exam Form Quindi potremmo Mettere il tutto In un'espressione Condizionale Quindi apriamo La graffa E chiudiamo La graffa E mettiamo Un Show form Punto interrogativo Se è vero Sì Altrimenti Quindi due punti Altrimenti Adesso Mettiamo Niente No Ah no Scusate Altrimenti Un bottone Se no Non possiamo più Farlo comparire Quindi Ci mettiamo Un bottone Button Ok In cui Mettiamo Variant Success Se volete Questo Questo è il colore Ma non fa niente Ho un click Ho un click Scusate Ho aperto Ok Graffe Ho un click Una callback Una callback Che mi farà Set show form True Mi raccomando Tonde Tonde freccia Perché se scrivo Set show form Direttamente Chiamo la funzione qui True Ok Button Va bene Lo chiamiamo Add Va bene Questo show form Che cos'è Questo qui È uno stato Quindi andiamo a crearcelo Cost Show form È uno stato Di visualizzazione Per React Non è che Lui fa distinzione Tra gli stati Di visualizzazione E gli stati Dell'applicazione Però noi Nella nostra testa Per noi È uno stato Di visualizzazione Quindi questo Non verrà mai spostato Da exam table L'altro Se necessario Potrebbe andare Più in su Fino in app Set show form Use state E dunque All'inizio È falso Perché non vogliamo Mostrarlo No Ok Fatemi vedere Di non aver combinato Pasticci Nell'interesse solo Di fare le cose In fretta Sì Dovrebbe essere a posto Quindi Ok Vedete che non c'è più Il form C'è un add C'è un add Se schiaccio add Compare il form Se schiaccio cancel Non succede niente Perché non abbiamo Ancora agganciato Facciamo l'ultimo passettino Agganciamo il cancel Quindi il cancel Qui avevamo il bottone Cancel Save Cancel Quindi c'è un secondo bottone Si vede poco Props Cancel Quindi devo passare Una props Cancel Quindi vuol dire che Add exam Al di fuori Devo fare Cancel Uguale E cosa devo metterci? Devo metterci Una callback Di nuovo Che Mi cancella Il Il form Cioè mi setta lo stato Callback In cui possiamo direttamente fare Set Show form False Ok? In realtà Il punto Il virgola non ci serve Cancel Che lo segna No Dovrebbe andare Cancel Set show form False Vediamo se c'è Allora Qui c'è qualche Traffa di troppo Set show form Ah Add exam Ecco Era da chiudere qui Voilà Ok Quindi Ricricchiamo Add Cancel Ok? E ovviamente C'è lo stato Che l'abbiamo Messo Che In table C'è finito In exam table Ci sono due stati Uno i dati E l'altro il false Nel momento in cui facciamo add Diventa true E nel momento in cui facciamo cancel Torna false Ok? E realte Ti aggiorna la visualizzazione Io direi che Ok No Ho messo un gittab Non c'entra niente Direi che Facciamo pausa adesso E dopo Ancora due parole Sui form Uncontrolled Ma giusto Così per esempio Perché lo trovate Nell'esempio Sul gittab E poi Continuiamo col context Intanto se avete dubbi o domande Ovviamente Scrivete pure su slack Io come sempre Chiudo la registrazione Così in cloud Comincia a processare E E poi E poi riapro subito Quindi potete subito Ricollegarvi Solo 30 secondi di pazienza Forse meno Ok Va bene Allora Fermiamo Qui Facciamo End E poi Riapro subito Grazie a tutti